Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Frank Maugeri e oggi vi farò vedere un circuito di allenamento per l'addome. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Non perdiamo altro tempo, il circuito di oggi si svolgerà esclusivamente a terra, non avremo bisogno di alcun tipo di attrezzatura, quindi iniziamo subito con il primo esercizio, altro non sono che dei crunch. Li andiamo ad eseguire con questa posizione di partenza, le mani poggiate sulle cosce e durante la fase di risalita andiamo a spostare le mani fin sopra le ginocchia. Mi raccomando come sempre di mantenere sempre il vento lontano dal petto, come se dovessimo tenere una mela tra il vento e il pettorale. Andiamo ad eseguire 15 ripetizioni. Passiamo al secondo esercizio. Posizioniamo una caviglia sopra il ginocchio, in questo caso la gamba testa sta su, quindi il braccio destro è posizionato a terra, la mano sinistra va dietro la nuca. Vado ad eseguire un crunch con rotazione, con il gomito che andrà verso il ginocchio. 10 ripetizioni per lato. A questo punto torniamo alla posizione di partenza e andiamo ad eseguire delle varianti della barchetta. Quindi da questa posizione vado ad espirare e ad eseguire un crunch. Da qui distendo le gambe, vado in barchetta, la lombare rimane sempre a terra. A questo punto posiziono le gambe a terra, quindi riprendo fiato e butto fuori l'aria e salgo ancora un po' di più con le spalle. Andiamo ad eseguire 6 ripetizioni. Ci posizioniamo su un gomito, andiamo ad eseguire un plank laterale dinamico. Quindi da questa posizione il bacino è sollevato da terra, la mano è rivolta verso l'alto. Vado a portare la mano sotto l'ascella, quindi ruoto leggermente il busto e torno verso l'alto. Andiamo ad eseguire 10 ripetizioni per lato. I piedi sono sempre a martello e i glutei sono sempre stretti. Andiamo ad eseguire 10 ripetizioni per lato. A questo punto concludiamo il primo giro con un plank. Quindi ci posizioniamo sui gomiti e andiamo ad eseguire 30 secondi di plank. I gomiti sono posizionati sotto le spalle, protraggo le spalle, allontano le scapole, i glutei sono stretti e il bacino è in retroversione. Mantengo 30 secondi. Ricordatevi di respirare sempre durante l'esercizio di questo esercizio. Non mantenete mai la pnea. Qualche altro respiro. E abbiamo concluso il primo giro. Andiamo a recuperare 1-2 minuti e andiamo ad eseguire almeno un altro giro. Anche per oggi il video è concluso. Se ti piace quello che hai visto ti ricordo di lasciare un like per continuare a supportarmi e di commentare facendomi sapere cosa ne pensi del video di oggi e cosa vorresti vedere nei prossimi. Ti ricordo inoltre se ancora non l'avessi fatto di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Da Frank Mauggeri è tutto.